Buonasera a tutti e benvenuti a Love Cube, benvenuti a quello che sarà un vero e proprio contenitore d'amore, quello che sarà un vero e proprio contenitore di canzoni d'amore. Potete ascoltare questa sera le canzoni d'amore più belle di tutti i tempi e sarete proprio voi da casa a decretare e decidere la migliore. Prima di cominciare permettetemi di ringraziare e salutare tutti coloro che si sono adoperati affinché questa serata si possa svolgere nel migliore dei modi e vi possa far divertire. Tutti coloro che hanno lavorato nelle settimane che ci hanno preceduto, queste ultime due o tre settimane e che continueranno a farlo nel corso della serata. Sto parlando ovviamente della sound service di Angelo Pelliccioli e di tutto il suo staff. Grazie ragazzi e buon lavoro per tutto quello che farete questa sera. Voglio ringraziare e salutare anche la direttrice Claudia Marchetti e tutti i docenti della Shermine's Academy che hanno organizzato e preparato tutto quello che vedrete fra pochissimo su questo palco. Ringraziamento speciale va anche a chi ci ha aiutato questo pomeriggio a truccare. Trucco e parrucco è stato fatto dall'inizio e qui da questo pomeriggio, dalle 14, ha iniziato a truccare tutte le nostre artiste, tutte le ragazze che vedete fa pochissimo calcare questo palco. Non posso chiedervi un applauso ma glielo faccio io personalmente alla nostra Maruska che davvero è stata impeccabile fino a pochi minuti fa. Abbiamo anche il fotografo ufficiale di Love Cube, il nostro Franco Giannelli che è qua che si sta girando e da questo pomeriggio che ha iniziato a fare un sacco di fotografie continuerà a farle anche nel corso della serata. Ne approfitto per dirvi che tutte le fotografie che sono state fatte quest'oggi verranno poi postate sui social nei prossimi giorni, Instagram e Facebook quindi venite a trovarci ovviamente Instagram e Facebook di Charmivens Academy. Nelle prossime giornate potrete vedere tutte quante le foto, già che ci siete e già che siete lì lasciateci un cuoricino o un pollice verso l'alto perché a noi fa sempre tanto tanto piacere. Ma il ringraziamento più grande va a tutti gli allievi della Charmivens Academy. Sono pronti, sono carichi ma sono anche tanto tanto emozionati. Hanno quindi bisogno di tutto il vostro calore e di tutto il vostro supporto. Il calore forse non riuscirete a trasferircelo dallo schermo ma il supporto assolutamente sì. In che modo? È una maniera molto molto semplice. Potrete votare le canzoni che fra poco cominceremo a fare qui sul palco questa sera. In maniera molto semplice, in basso a destra nello schermo del vostro computer troverete un'icona con il pollice alzato, il celeberrimo like. Non dovete fare altro che digitare e cliccare sul like. Quando lo dovrete fare ve lo dirò io, ovviamente durante l'esibizione di ogni artista. Sarò io a darvi il via per il voto e sarò io a dare lo stop per il voto. In quel lasso di tempo avrete la possibilità di votare per quella canzone e per quell'artista. Le canzoni in gara sono 12 e se votate per uno potete tranquillamente votare anche per tutti gli altri 11. Non ci sono restrizioni. Restrizioni ce le hanno già date a sufficienza nei mesi passati. Questa sera vogliamo passare due ore all'insegna del divertimento con della buona musica e cerchiamo davvero di farvi divertire. Vi assicuro che è molto più semplice farlo che spiegarlo e nel corso della serata capirete perfettamente che cosa dovete fare. Direi che siamo pronti. Tutto è pronto per cominciare. Voi mettetevi comodi perché sta per cominciare lo show. E vado ad aprire la prima votazione, la voto per il primo brano che andiamo a presentare. È un brano di una grande voce della musica leggera italiana. Sto parlando di Tiziano Ferro. Otto album al suo attivo e più di 15 milioni di coppie vendute in carriera. È un singolo pubblicato nel marzo del 2012 ed è estratto dal suo quinto album L'amore è una cosa semplice. Il titolo del brano è Hai delle isole negli occhi. Questa sera lo riascoltiamo nella versione di Noemi Campanella. Ciao, ben arrivata. Ci comitiamo perché in questo periodo non ci si può più salutare come si faceva fino a pochi mesi fa. Ci salutiamo. So che non sei per niente emozionata. No, no, per nulla io. Sei pronta? Ma hai detto sono emozionata perché sono la prima e perché sono sola sul palco. Allora, la prima non sei tu perché ci sono già stato io, quindi sei la seconda. E non sei sola sul palco perché dietro di te abbiamo il coro. Assolutamente sì. E ringraziamo anche Alessia Gerardi e Fiorenza Swagger. Grazie che avremo modo poi di riconoscere durante la serata. Tu sei pronta? Sì. Io me ne vado? Sì. Signori e signori, Noemi Campanella. Sì.